Oggi alle ore 16 scade il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali con i partecipanti alle prossime elezioni regionali siciliane del 5 novembre. Tra questi non mancano i favaresi che nei giorni scorsi hanno annunciato la propria candidatura, più qualche volto che all'ultimo minuto entra in scena e qualcun altro che sembra uscirne. Oggi si ufficializza l'ascesa in campo del 48enne insegnante Salvatore Liotta, che si candida nella lista lega noi con Salvini. Liotta, nominato nell'aprile del 2015 quale referente del Movimento per il territorio di Favara, dice di volersi impegnare in questa competizione difficile ma allo stesso tempo esaltante e di volere portare avanti in Sicilia il progetto del leader Matteo Salvini. Anche l'onorevole Salvatore Iacolino, favarese di origine, ha già annunciato nei giorni scorsi la sua candidatura a Lars sotto legida dell'Udc. Cinque anni fa aveva puntato molto sulla città di Favara. Sorpresa invece per il medico Carmelo Vitello, che nei giorni scorsi aveva annunciato la propria candidatura a Lars con la lista Forza Italia. Al momento però pare che non figurerebbe all'interno della lista stessa. Ad ogni modo l'ufficialità la si avrà questo pomeriggio, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. Oltre a questi, i favaresi che scendono in campo per le regionali sono l'ingegnere Giovanni Di Carro del Movimento 5 Stelle, l'ex sindaco Mimmo Russello con il PD, l'ingegnere Fabio Patti con la lista Fava Presidente, 100 passi per la Sicilia, e la consigliera comunale Marely Chiapparo con la lista Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti. Ricordiamo che nel 2012 i candidati favarese a Lars furono 12 e di questi nessuno riuscì a conquistare un posto da deputato. Troppi candidati, troppa dispersione di voti.